Mario, ce lo racconti il tuo gol. Il gol? Ce lo racconti il tuo gol. È il gol che ha regalato il primo punto della sua storia in Champions League all'Atalanta. È una bella notizia. Sono molto contento per il punto, però più come abbiamo giocato la gara, soprattutto secondo tempo. Il primo tempo è un po' così così, però secondo tempo abbiamo fatto le occasioni. Alla fine, anche siccome è andata la partita, potevamo magari fare di più. Però va bene, abbiamo fatto il punto e siamo ancora dentro. Mario, sei stato votato, giudicato il man of the match di questa partita tra Atalanta e Manchester City. Per te anche questa soddisfazione? Sì, è bello, soprattutto quando giochi contro giocatori forti. Però io dico che questo è più di squadra, perché veramente il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, abbiamo giocato tutti insieme. Poi è certo che se qualcuno segna, gli occhi sono sempre su di lui, però io dico che come squadra abbiamo fatto molto bene. Grazie per la visione!